Allora eccoci di nuovo in diretta e adesso ci occupiamo del modello 730 vedremo come è possibile realizzarlo periodo questo molto pesante quello delle tasse bisogna pagare le tasse allora ci colleghiamo subito col professor Claudio Miglio commercialista e docente di economia aziendale all'Unicusano buonasera professore ben ritrovato buonasera a tutti buonasera a te Roberta allora professore modello 730 via web dell'agenzia delle entrate dal 23 maggio online come si fa come si fa partiamo da come si potrebbe fare meglio però partiamo perché siamo in una situazione che non tutti lo possono fare se lo se affidiamo a mia madre la compilazione del 730 web mia madre non sarebbe in grado questo non per sottovalutare mia madre ma perché mia madre rappresenta l'italiano medio quindi diciamo che è un'ottima iniziativa dell'agenzia delle entrate che ormai in rodaggio da più anni ma che è sempre complicata nella modalità di fruizione da parte dei contribuenti si fa entrando con la propria con le password dello speed con le password della carta nazionale dei servizi con la firma elettronica quindi abbiamo qui già la prima complicazione perché con lo speed dobbiamo entrare entriamo in un diciamo in una parte web dell'agenzia dell'entrata protetta e poi lì effettivamente il sistema è leggermente efficiente dico leggermente efficiente perché non propriamente totalmente efficiente ma efficiente perché guida il contribuente nella scelta del tipo di modello perché la l'agenzia delle entrate ha vari modelli dichiarativi il modello 730 e il modello redditi il modello 730 è quello che conosciamo tutti è quello più diffuso perché abbraccia un po' la totalità dei soggetti che non sono titolari di partita IVA e che sono la maggioranza sono i lavoratori dipendenti e con questo modello 730 o il modello redditi l'agenzia delle entrate ci guida all'uno o l'altro modello e all'interno di questi due modelli l'agenzia popola con una serie di informazioni alle note informazioni alle note che vengono erogate nel mese di marzo solitamente in dagli intermediari dai soggetti che sono obbligati come le i medici i commercialisti eccetera e quindi viene popolato una sorta di modello che viene denominato proprio modello precompilato questo che cosa comporta comporta che il contribuente una volta che ha scelto il modello tramite il sistema avatar dell'agenzia delle entrate sceglie il modello ipotizziamo 730 e controlla all'interno del modello 730 se ipotizziamo la cv è quella giusta e oniridetraibili e oniridetucibili sono quelli effettivamente che ha messo da parte scontrini a polizia assicurativa e quant'altro valida la dichiarazione e la invia direttamente all'agenzia delle entrate questo è un sistema effettivamente efficace devo dire efficace ma che non è purtroppo alla portata di tutti e non essendo la portata di tutti mette nella condizione di doversi rivolgere sempre a un tecnico a una persona esperta e quindi non facilita mia madre prendo lei come modello a poter predisporre questo modello 730 in piena autonomia però è effettivamente nel corso del tempo questa tipologia di modalità dichiarativa è una modalità che permetterebbe uso il condizionale a qualsiasi cittadino di non regarsi né al CAF né dai dottori commercialisti né dai consulenti del lavoro né da tutti coloro che fanno i modelli 730 modelli e i redditi e farselo da solo accedendo con lo speed sembra semplice ma è complesso. Senta professore un titolare di partita IVA in regime forfettario può presentare il 730? Questa è una domanda saggia perché tante persone anche a me fanno questa domanda chi è nel regime semplificato massimo dalla parte dell'agenzia dell'entrata regime forfettario non può presentare il modello 730 ma deve presentare il modello redditi e all'interno del modello redditi c'è un quadro apposito che va compilato e quindi sono praticamente loro non possono utilizzare le facilite le agevolazioni del modello 730 perché non dimentichiamo che quelle agevolazioni del modello 730 non sono indifferenti sono agevolazioni notevoli lei presenta il modello 730 entro la fine di questo mese già dal mese di luglio avrà un rimborso se lo presento io col mio modello redditi forse fra due anni avrà un rimborso quindi ci troviamo in una situazione che chi presenta 730 ha delle agevolazioni perché il datore di lavoro si sostituisce all'erario una volta che ha avuto l'ok dall'agenzia delle entrate eroga direttamente il datore di lavoro il rimborso al contribuente barra dipendente o pensionato che sia perché anche l'inps fa la funzione come datore di lavoro di erogazione di queste somme di denaro a credito sente invece il famoso ormai 730 congiunto che cos'è chi può avvalersene professore diciamo che qualche anno fa esisteva anche il modello redditi una volta si chiamava 740 congiunto poi quel modello fu abolito ma fu mantenuto il modello 730 congiunto ci viene distinto pensare che congiunto possano usufruirne tutti coloro che sono spesati ma non è così possono anche fruirne coloro che hanno contratto la classica unione civile presso il proprio comune o presso un comune qualsiasi del nostro paese secondo la legge cirinnagula del 2016 anche loro possono fare il modello 730 congiunto che è un'altra facilità effettivamente un'altra agevolazione perché due soggetti che uniti civilmente uniti da matrimonio possono optare per questa modalità quando uno dei due ha un sostituto di imposta l'altro non ce l'ha per esempio e quindi trasferisce o il credito o il debito in un unicum quindi in un unico solo modello che porta sicuramente delle agevolazioni al contribuente o ai contribuenti nella fattispecie perché sono due. Per quanto tempo professore devo conservare la documentazione relativa al modello 730? Allora la regola generale ci dice che noi dovremmo conservare tutta la documentazione relativa al 730 prendiamo come modello quest'anno relativo quindi all'anno 21 che faccio nel 22 fino al 31 12 del 2027 quindi non lo dimentichiamo ma questa è una regola generale non è la regola effettiva perché noi dobbiamo essere in condizione di conservare tutta la documentazione che genera i nostri oneri deducibili barra oneri detraibili e che comporta che se abbiamo un mutuo faccio un esempio banale ma è facilmente riscontrabile nei contribuenti un mutuo trentennale io quel mutuo lo devo quel contratto di mutuo lo devo conservare a richiesta dell'agenzia delle entrate per tutti i 30 anni in cui io porto quegli interessi passivi in percentuale al 19 per cento quindi questo è un esempio e così anche l'altro esempio se faccio lavori bonus ristrutturazioni 50 per cento 110 per cento 80 90 per cento tutte quelle percentuali che ormai conosciamo tutte le vediamo sui media tutti i giorni a prescindere dal momento in cui ho fatto il lavoro quindi faccio i lavori oggi io ne fruisco per dieci anni per tutti i dieci anni in cui inserisco nella dichiarazione dei redditi quelle quell'importo quel decimo io sono obbligato a conservare la documentazione che ha generato l'intero importo e così vale anche per i documenti relativi ai lavori che faccio all'interno del mio condominio quindi la conservazione della documentazione è cosa molto delicata e il contribuente non deve limitarsi a pensare che all'ospirare del 31 dicembre del 2027 mentre stappa la sua bottiglia di spumante possa buttare tutto perché non è così alcuni documenti li dobbiamo conservare. Invece chi si avvale del 730 dal CAF oppure dal proprio commercialista di solito ha credito per l'effetto delle spese detraibili e delle spese deducibili ecco in questo caso l'agenzia delle entrate professore che controlli fa? Allora i controlli l'agenzia li fa li fa anche accurati a dei sistemi di indagine che fa senza uomini chiaramente con dei software e va a verificare se ci sono delle anomalie nel modello 730 del contribuente. Qualora ci fossero delle anomalie non dà l'ok al datore di lavoro che è stato indicato dal contribuente e quindi sarà la stessa agenzia delle entrate che si riserva entro sei mesi da quando è stato dal 30 settembre di quest'anno se prendiamo come esempio il nostro modello 730 dell'anno 22 per l'anno 21 che è il giorno ultimo di deposito del modello 730 entro sei mesi può erogare questo rimborso quindi non lo eroguerà più il datore di lavoro l'imps che sia se parliamo di un pensionato o l'ente pensionistico in genere ma lo erogherà direttamente l'agenzia delle entrate che si riserva di fare dei controlli controlli che sono scattano anche automaticamente e questo do un consiglio ai nostri telespettatori quando noi abbiamo un credito che richiediamo per un importo superiore a 4000 euro quindi se vogliamo far sì che il nostro 730 vada di plano al rimborso con l'imps o con il nostro datore di lavoro se avessimo faccio un esempio un credito pari a 4800 euro suggerirei di portare a credito massimo al rimborso massimo 4000 euro e la parte eccedente in compensazione casomai ci paghiamo l'imu ci paghiamo o ce la riportiamo all'anno successivo ma questo ci mette nella condizione che se depositiamo il nostro modello 730 ipotizziamo questo via web o anche lo portiamo al CAF lo portiamo al nostro datore di lavoro lo portiamo al nostro commercialista noi siamo nella condizione di prendere il denaro già del nostro rimborso che ci spetta già dal mese di luglio quindi la condizione è non andate oltre i 4000 euro conservate quell'importo eccedente e poi casomai nei fruire dell'anno successivo in modo tale che 4000 ve li prendete subito altrimenti entrate in quella forma di controllo obbligata dell'agenzia delle entrate che ci mette in una condizione di ricevere se tutto va bene quel famoso rimborso non più col datore di lavoro o col lente pensionistico bensì direttamente dall'agenzia delle entrate entro sei mesi dal 30 settembre quindi siamo si dilatano i tempi diciamo certo senta professore stiamo ancora vivendo purtroppo le conseguenze negative della pandemia a quale si è aggiunta anche la guerra e molti conduttori hanno richiesto al locatore nel corso del 2021 una riduzione del canone di locazione ecco ci sono modalità particolari nel comunicare questa riduzione all'agenzia delle entrate con il modello 730 è una domanda che si stanno ponendo molti cittadini che stanno predisponendo la documentazione per la dichiarazione dei redditi per il modello 730 anche perché entrambi i modelli hanno dei quadri similari dove si dichiarano i redditi da fabbricati e da terreni degli immobili sì effettivamente l'agenzia delle entrate siccome non è obbligatorio comunicare all'agenzia delle entrate una riduzione di canone di locazione ha previsto dei codici specifici che andranno inseriti quindi va comunicato al professionista va inserito nel modello 730 web il codice specifico proprio per comunicare all'agenzia delle entrate attenzione io ho abbassato il reddito al mio conduttore ma ho percepito quindi una cifra più bassa poi sta l'agenzia delle entrate a fare quei controlli perché non avendo ricevuto alcuna registrazione di quell'atto l'agenzia delle entrate chiaramente potrebbe riservarsi nel corso del tempo di richiedere la prova della riduzione del canone di locazione noi sappiamo bene che sotto pandemia tanti proprietari di immobili hanno concesso ai conduttori una riduzione anche notevole del canone di locazione perché si sono resi conto che la situazione economica e finanziaria di tante famiglie era andata un po in default a causa di tutte quelle restrizioni che saranno generate nel 2020 e poi a cascata anche nel 2021 che è l'anno che ci interessa adesso. Senta professore invece parliamo degli scontrini della farmacia quando acquistiamo delle medicine ma è vero che poi per detrarli bisogna sempre riportare il codice fiscale altrimenti non sono validi per il modello 730 la dichiarazione dei redditi? Sì innanzitutto diciamo che 730 e dichiarazione dei redditi il principio è sempre lo stesso le regole sono sempre lo stesso è vero tutti gli scontrini della farmacia devono conservare essere conservati con apposto dalla farmacia stessa il codice fiscale del soggetto che poi va a dichiarare quell'onere detraibile o onere deducibile. Io se lei se Roberta mi dà un minuto le dico anche la differenza perché tanti cittadini non hanno ancora capito che cos'è un onere deducibile e cos'è un onere detraibile. L'onere detraibile è quell'onere e quindi è quella spesa virtuosa per il nostro Stato che ci permette di portarci in detrazione il 19% secondo certe regole poi ognuno è a sé di quel tipo di onere mentre l'onere deducibile abbassa già notevolmente il nostro reddito per l'equivalente di quell'onere quindi se io faccio un esempio banale sostengo una spesa per contributi previdenziali della mia cassa di previdenza quello è un onere deducibile non è un onere detraibile e c'è una bella differenza perché con l'onere deducibile si attesta la liquida massima a cui io accedo quindi ipotizziamo se io fossi un contribuente con un reddito alto e sto alla liquida ma del 43% io ho una riduzione non del 19% come con l'onere detraibile ma della liquida molto più alta quindi l'onere deducibile è un onere più virtuoso per quanto riguarda il nostro fisco e quindi per le nostre tasche perché aumenta il nostro credito certo invece interessi sui mutui ipotecari per l'abitazione principale professore quanto possiamo portare in detrazione chi può portare anche gli interessi stessi in detrazione sì questo è anche un altro quesito che mi viene posto spesso e per quanto riguarda i mutui è cambiato un po la norma del corso del tempo adesso la norma prevede che un soggetto che è proprietario non totalmente su un immobile può portare fino al massimo quando si tratta di un mutuo ipotecario per la sua abitazione principale attenzione questa è la regola può portare fino al massimo nell'importo di euro 4.000 però essendo un onere detraibile noi ci portiamo il 19% di 4.000 che sono 760 euro quindi non dimentichiamo se io pagassi di interessi 10.000 euro in ogni caso io posso portare il limite massimo di 4.000 euro e quindi 760 euro e ricordiamoci sempre che essendo onere detraibile abbiamo il 19% dell'importo degli interessi che io porto fino al massimo chi può portarli in sintesi già glielo ho detto li può portare il contribuente che è proprietario dell'immobile ma non necessariamente proprietario al 100% quindi se un genitore compra una casa al figlio e la intesta al figlio per il 95% il 5% se lo tiene il genitore e poi il mutuo lo contrae per l'abitazione principale ci vanno ad abitare lo contrae direttamente il genitore quel mutuo 4.000 euro massimo 760 euro effettivi lo può portare il genitore anche se il figlio non interviene nel mutuo quindi l'importante è ricordare questa caratteristica abitazione condizione abitazione principale e che il mutuo sia quindi mutuo ipotecario per abitazione principale tutte le altre tipologie di mutui chirografari prestiti e quant'altro non hanno agevolazioni come detrazioni fiscali senta invece relativamente al bonus di 200 euro che è molto chiaro come arriverà chi ha la busta paga perché è facilitato come al solito gli verrà messo in busta paga per tutte le partite IVA come faranno ad avere questo bonus? Tutti in evoluzione Roberta come tutte le cose nel nostro paese è di un paio di giorni fa l'inclusione all'interno di coloro che possono accedere a questo bonus anche di quei soggetti golf badanti eccetera che all'inizio erano stati esclusi è stato ribadito il limite di 35.000 euro per i lavoratori dipendenti per i lavoratori dello spettacolo eccetera per quanto riguarda i pensionati verrà erogato dall'Inps per quanto riguarda i lavoratori dipendenti verrà erogato dal datore di lavoro per quanto riguarda i professionisti si sta studiando la soluzione migliore sembrerebbe ma questa è un'ipotesi che si possa accedere direttamente tramite le casse di previdenza a questo bonus ma ancora non è certo quindi diciamo che stiamo in attesa di regolamentazione per quanto riguarda una notizia chi fa chi come lavoratore golf badante può regarsi già un CAF i CAF sono già diciamo organizzati da luglio potranno percepirlo a patto che non siano percettori di reddito di cittadinanza e a patto quindi questa è una condizione a patto che alla data del 18 maggio del 2022 quando la norma è entrata in vigore questi soggetti erano dipendenti almeno con un contratto come corso come badanti Senta professore invece la fattura elettronica che è un sparacchio un po' per tutti quelli che hanno la partita IVA da quando inizierà? Di che cosa bisognerà dotarsi? Perché già appaiono in tv le prime pubblicità di società private che si propongono come coloro che hanno la soluzione in tasca per questa fattura elettronica poi sempre ci sono in agguato le truffe. Che bisogna fare professore? La fattura elettronica noi sappiamo tutti che dal 2019, dal primo gennaio, è partita per alcune categorie di contribuenti erano stati esclusi i contribuenti forfettari e sono ancora attualmente esclusi forfettari insomma nei regimi questo qua forfettario minimale e sono ancora esclusi i soggetti come i medici quando fanno la fattura direttamente ai clienti per la prestazione medica questo per ragioni di privacy intervenne il garante e bloccò tutto per quanto riguarda il regime forfettario come al solito nel nostro paese facciamo le cose a metà perché avremmo potuto far partire il tutto dal primo gennaio del 2022 e non l'abbiamo fatto eppure avevamo ricevuto l'autorizzazione dalla comunità europea lo facciamo partire il primo luglio ma per chi lo facciamo partire? e qui c'è la domanda e qui come al solito ci troveremo in difficoltà partirà per tutti coloro che nell'anno 2021 accedendo al regime forfettario hanno fatturato almeno 25 mila euro quindi i forfettari cammineranno su un doppio binario quelli che hanno fatturato almeno 25 mila euro quindi da 25 mila euro in su saranno obbligati dal primo luglio ad emettere queste fatture elettroniche con la stessa modalità con le quali le emettono adesso quelli in regime ordinario come io o tutti questi che sono attualmente nel regime ordinario mentre coloro che sono sotto la soglia dei 25 mila euro potranno, dovranno accedere alla fatturazione elettronica come tutti a partire dal primo gennaio 2023 quindi diciamo che c'è una moratoria che dal primo luglio al 31-12 mette in condizione tutto coloro che hanno meno di 25 mila euro di fatturato riferito all'anno 2021 però non all'anno 2022 che potranno accedere a questo nuovo nuova cabella dal punto di vista anche della complicazione perché fare una fattura elettronica non è cosa semplice anche se l'agenzia delle entrate mette a disposizione un'applicazione ma in ogni caso è un po' complessa nella fruizione e io le ripeto mia madre non sarebbe in grado di farsi una fattura elettronica e quindi il cittadino medio non è in grado il nostro paese fa norme e poi il burocrate crea ostacoli affinché queste norme poi possano essere fruite da tutti i cittadini e questo è il più grande errore del nostro paese perché il nostro parlamento le norme le fa pure ma se poi interviene il burocrate che interpreta a modo suo e crea complicazioni è evidente che noi ci troviamo in questa situazione che il cittadino medio avrà difficoltà a predisporre la sua fattura elettronica perché è complicato codici se poi la fattura viene fatta a una asla e ci sta una complicazione ulteriore quindi come al solito se ci mette lo zampino il burocrate noi purtroppo siamo il paese della burocrazia noi nel nostro paese siamo bloccati siamo bloccati con il fisco siamo bloccati anche faccio un esempio banale Roberta ma questa è una cosa veramente grave con l'eolico, noi abbiamo piattaforme eoliche davanti a Taranto in partenza che per la burocrazia sono ferme là da 14 anni oggi le turbine sotto quelle piattaforme eoliche non le costruisce, non le fabbrica più nessuno noi siamo pronti, avremmo la possibilità di creare energia elettrica energia pulita con l'energia del mare e col vento e noi non siamo in grado di farla partire perché quel progetto di 14 anni fa prevedeva delle turbine che oggi non ci sono più quindi lei capisce, parliamo delle turbine, parliamo del fisco c'è sempre qualcuno che complica la vita al cittadino Certo, professore c'è una domanda da parte del giornalista di studio Alessandro Gatta Professore, buonasera La ringrazio per quest'ultima, per tutto ma soprattutto per quest'ultima osservazione sulla burocrazia non le nascondo che avevo la domanda ma era effettivamente già risposto L'ho bruciata C'è una curiosità, mi ha anticipato c'è una curiosità, faccio parte di quel gruppo non perché lo faccia non direttamente le cartelle esattoriali non ci sarà la rottamazione? Ci sarà? Avevano promesso che in qualche modo vista la pandemia probabilmente insomma avremmo avuto diritto a questa eventuale rottamazione anche perché l'Agenzia delle Entrate nelle cartelle esattoriali molto spesso, qui bisogna dirlo o per via della burocrazia o per altri motivi fa degli errori, no? Per cui arrivano cartelle pazze che poi vengono ridotte ma non soltanto per via della rottamazione insomma ci sarà o no? Cosa devono pensare i nostri contribuenti? Alessandro, io sono un ottimista su questo tema lo dico da tempo c'è una parte politica che spinge verso la rottamazione è inutile che diciamo qual è la parte politica lo sappiamo tutti e c'è una parte politica che è molto legata alle regole giustamente non discuto su questo che non vorrebbe reintrodurre una rottamazione come quella che era stata introdotta qualche anno fa ma noi abbiamo tanti cittadini e glielo garantisco cittadini anche lavoratori in pensione lavoratori anche che fino a qualche anno fa facevano lavori nobili le dico Alessandro io riconosco adesso non violiamo la privacy in assoluto che oggi si trovano in grandissima difficoltà non sono in condizione di poter ottemperare le obbligazioni di queste cartelle esattoriali stanno continuando a tentare di pagare qualche rata una la salta se il nostro paese se lo Stato se il nostro Parlamento non interviene su queste persone noi veramente rischiamo il default di queste persone e quando queste persone vanno in default noi non avremo più chi fa acquisti per metterci in condizione di far crescere il nostro PIL quindi dobbiamo fare una pace dal punto di vista fiscale per questi redditi bassi per tutti coloro che sono in una condizione di non poter pagare queste cartelle e per quelli che hanno redditi medio-bassi metterli nella condizione di rateizzare in dieci anni come se fosse un mutuo questo è il mio parere che io do anche al Parlamento ma non è che ascolta a me in modo tale che tutto il paese possa ripartire perché la pandemia e oggi la guerra in Ucraina che sappiamo tutti quali danni sta arregando veramente noi siamo in una situazione critica non possiamo sempre parlare dei vaccini giustamente del virus va bene tutto ma dobbiamo parlare dell'economia dobbiamo parlare delle condizioni in cui i nostri cittadini sono noi abbiamo tanti cittadini che fruiscono di questo reddito di cittadinanza e oggi non cercano lavoro ci sono tante imprese che cercano lavoratori e non trovano lavoratori il Parlamento deve capire come risolvere il problema il reddito di cittadinanza va bene solo per alcune categorie di soggetti meno abbienti per altre categorie mandiamoli a lavorare li formiamo creiamo delle professionalità ma creiamo anche il volano su queste situazioni che ormai incancrenite con l'Agenzia delle Entrate e Discussione perché come ha detto lei Alessandro è vero questo confermo tanta gente si ritrova un debito collerario non perché quel debito era un debito effettivamente dovuto ma tanta gente gli hanno notificato la cartella non si è reso conto che doveva fare ricorso tanta gente ha paura di prendersi la cartella dal postino o ha una PEC che non la legge più ha ragione lei Alessandro siamo veramente in questo momento non è la pace fiscale è la pace con i cittadini che deve fare il nostro Parlamento io la chiamerei pace con i cittadini e forse potremmo veramente dire che il nostro è un paese che sta ripartendo altrimenti ci troviamo in questa difficoltà bene ringraziamo il professor Claudio Miglio lo ricordiamo docente di economia aziendale l'unico usano e commercialista grazie professore per essere stato con noi appuntamento alla prossima intervista buona serata buona sera grazie buona serata buona serata Roberta buona serata ai telespettatori buona serata Alessandro grazie a tutti grazie allora diamo la linea la pubblicità poi l'ultimo ospite studio a Rotocalco 264 grazie a tutti Grazie a tutti.